Proprio sulle elezioni romane, già che direi che il programma del PD è scritto dai cittadini, mentre quello della vostra candidata della Raggi è scritto negli uffici della Casaleggio Associati. Noi il programma lo faremo con una consultazione, lo abbiamo già fatto a Roma e lo stiamo facendo con una consultazione online che coinvolge i nostri iscritti, lo stiamo portando avanti, a me risulta per loro stessa ammissione che a Roma non hanno un programma. Ma ripeto, tutte queste diatribe adesso tra forze politiche devono essere sostituite da una spiegazione chiara di cosa si vuole fare per Roma. Noi abbiamo investito al primo punto in viabilità, al secondo in pulizia urbana, in terza in trasporti pubblici e vogliamo portare avanti poche cose concrete per i cittadini ma efficaci. Non vogliamo promettere il mondo perché sappiamo che è una città molto difficile da governare, ma sappiamo di avere dalla nostra il fatto che il Comune di Roma spreca un miliardo di euro e duecento milioni ogni anno, noi non ci nutriamo di quel miliardo e duecento milioni di euro di sprechi e per questo abbiamo la credibilità e la forza per tagliarla.